Si terrà sabato 15 e domenica 16 ottobre in Corso Umberto il Festival Scambio Culturale e Tradizionale Romania e Sicilia, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, la Proloco, l'ASIR, Associazione Sociale e Culturale Migranti Rumeni e il Consolato Rumeno. Saranno una due giorni di grande divertimento dove si esibiranno cantanti rumeni e italiani, di esposizione dei costumi tradizionali rumeni e di assaggi di piatti tipici. Presenti alla manifestazione anche i maestri nisseni Lillo De Fraia e Ottavio Miraglia, dove presenteranno i loro libri Il dono di un talento e Le mie ricette del territorio nisseno. Questo bellissimo evento, il Festival Scambio Culturale Romania-Sicilia, abbiamo dei prodotti tipici rumeni e siciliani per questo scambio, abbiamo i cantanti famosi della Romania, abbiamo anche i cantanti, una sorpresa, anche i cantanti italiani qui del posto. Voglio aggiungere questo Festival Scambio Culturale, è organizzato con il sostegno del governo dei rumeni ovunque, Dipartimento Rumeni Ovunque, Governo della Romania, in collaborazione anche con il comune di Caltanisseita, che vorrei ringraziare al sindaco, a tutto il suo staff per questo appoggio che ci danno e che ci sono vicini a noi per organizzare questo evento.